Il progetto che è stato realizzato dall'USL, dell'azienda sanitaria di Treviso, è il progetto di un'applicazione per le due principali piattaforme presenti sul mercato, quindi piattaforma Android e iPhone e iPad. È un'applicazione scaricabile gratuitamente dai cittadini per poterla utilizzare per lo scarico referti. Da ormai molti anni a Treviso abbiamo sviluppato un progetto di dematerializzazione dei referti con possibilità di scarico via internet. Questo è un upgrade, è uno sviluppo del progetto originario che si chiamava Escape attraverso la possibilità di estrazione attraverso anche unità mobili come telefone o tablet PC. Poiché qualche anno fa, circa tre anni fa, ci fu un finanziamento da parte del Ministero dell'Innovazione Tecnologica per un cosiddetto riuso, cioè allargamento a tutte le altre aziende del Veneto, l'azienda US9 è l'azienda cedente, cioè quella che ha sviluppato originariamente il progetto e ha ottenuto dei finanziamenti per ulteriormente implementarlo e migliorarlo. Questa parte dell'applicazione rientra proprio in quest'ultima fase, quella del miglioramento del progetto originario e quindi adesso che è operativo da 15 giorni è pronto anche per l'utilizzo in tutte le altre aziende sanitarie del Veneto. Il che vuol dire che in questo momento ne possono usufruire circa 400.000 Veneti, nel giro di quest'anno sarà allargato a tutte le altre aziende per un totale di circa 5 milioni di cittadini. Il riscontro che abbiamo sui numeri è già un riscontro molto interessante e molto suggestivo perché sono scattati e scaricati centinaia di applicazioni. Grazie. 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 Grazie.